amici e amiche una buona nottata di halloween ancora lo stavo navigando uno store per switch e mi trovo davanti a questo qui no store di oscure dell'orrore americano a 99 centesimi senza nessun tipo di informazione o non so che cosa che roba sia penso che sia dei racconti interattivi ma vedere cos'è infatti storie margarida andres che cazzo sembra stami canale 5 allora lingua italiana audio va bene la leggenda di slippy all cavaliere senza testa la storia di slippy all inventata alla fine del diciottesimo secolo nel villaggio omonimo nel villaggio omonimo iceberg crane un magro e superstizioso insegnante si trova coinvolto in un intreccio che mescola elementi sopranaturali umani si vocifera che un cavaliere senza testa un soldato che ha perso la vita nella guerra dell'indipendenza vaghi per i boschi in cerca della sua testa perduta il protagonista si trova invischiato in un triangolo amoroso con katrina van tessel la cui bellezza e ricchezza lo incantano tuttavia la rivalità con brom bones un altro pretendente e la minaccia il cavaliere senza testa lo conducono a una notte di terrore che cambia la sua vita per sempre la leggenda di slippy all of culmina in un incontro oscuro carico di suspense crane tornando a una festa viene seguito dal cavaliere senza testa nel cuore della notte la figura spettrale montata sul suo destiero nero insegue ice boat fino al ponte di slippy all in una sorprendente svolta il cavaliere sky e la sua zucca infuocata contro ice boat che scompare per sempre lasciando il suo cavallo e il suo cappello la conclusione ambigola della storia lasci abitanti di slippy all of a chiedersi se crane sia stato vittima del cavaliere senza testa e si è fuggito dal villaggio in cerca di una nuova vita storie oscure dell'orrore americano la leggenda di slippy all of si immerge in un mondo in cui il sopranaturale e l'umano si intrecciano mentre esporriamo le paure e le passioni crane sperimentiamo anche la sospanso di inquietudine che emana dal cavaliere senza testa questa leggenda che ricorda che persino nei luoghi più tranquilli e sereni possono nascondersi segreti oscuri che le ombre della notte possono essere molto più inquietanti di quanto immaginiamo la storia di slippy all of perduta nel tempo un avvertimento che no un avvertimento che non è fatto male perché non riesci a farlo scorrere piano non riesco a leggere la parte finale si andrebbe coltaccia anche ma non la storia di slippy all of perduta nel tempo un avvertimento negli angoli più scuri dell'immaginazione umana il terrore può essere in agguato pronto a strisciare nell'oscurità un po' una pensavo meglio quella 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 quelle storie qua e guardiamo la coppia rapita vabbè alieni alieni in una tranquilla strada betty e barney hill si trovano coinvolti in un evento che sfidava le loro nozioni di realtà luci strane circondavano il loro veicolo mentre figure umanoide sembravano osservarli dell'oscurità del cielo senza saperlo stavano per diventare protagonisti in un racconto che vorrebbe messo in discussione i limiti del possibile l'incontro li trasformò in una serie di immagini sconcertanti esseri con occhi grandi e scuri procedure mediche incomprensibili la sensazione di essere sotto controllo una forza superiore i dettagli forniti dopo l'evento furono intrecciati in una narrazione che sfidava la logica convenzionale catapultandoli in un mondo di interrogativi ed esame critico nonostante l'osteticismo e l'incredulità di alcuni le testimonianze di betty e barney hill sopravvissero al passare del tempo l'interesse sulla possibile sulla possibilità di vita extraterrestre visite da altri mondi e segreti nascosti in un diverso rimase vivo le loro esperienze aprirono un nuovo capitolo nell'esplorazione dell'ignoto portandosi così oltre le stelle in un territorio che mette a prova la nostra comprensione il racconto dei coniugi hill è una testimonianza del mistero che si aggira in margine della nostra realtà in un'epoca in cui la fantascienza si intreccia con la verità la storia di betty e barney hill spicca come un racconto che ampia e confida la nostra immaginazione racconti oscuri dalla loro esperienza diventa un promemoria inquietante che in un vasto universo la possibilità dell'ignoto ancora latente mentre esploriamo gli angoli oscuri della storia e rendiamo conto che alcune verità possono riscendere nell'ombra sfidando la comprensione umana la storia con il si ricorda che nella nostra ricerca della verità dobbiamo essere pronti ad incontrare ciò che è inaspettato e inspiegabile nel nostro viaggio attraverso il cosmo si vabbè gli americani vedono un extraterrestre oggi e due domani però niente di la leggenda di blu di mary pressante tutte storie comunque nelle notte insonni e durante i giochi sfida tra amici il nome blu di mary viene sussurrato con un tono di paura si dice che questa leggenda abbia radici nel sedicesimo secolo durante il reno della regina maria d'inghilterra anche conosciuta come blu di mary tuttavia è importante notare che date e nomi variano nelle diverse versioni della storia la leggenda narra che se ti mette di fronte uno specchio oscuro e ripeti tre volte il nome blu di mary una figura sanguinolente terrificante apparirà davanti a te alcune versioni affermano che si tratta dello spirito vendicativo di una donna assassinata mentre altre sostengono che rappresenti una strega condannata un destino oscuro mentre racconto di blu di mary si diffonde l'idea di evocare uno spirito malvagio esplicemente guardandosi in uno specchio aggiunge un elemento di paura alla quotidianità affrontare il proprio riflesso diventa un'esperienza terrificante poiché non si sa mai se il mistero si svelerà davanti a te le storie raccontano che la figura di blu di mary emerge lentamente man mano che il tuo riflesso cambia come se lo specchio fosse una finestra sul mondo dell'aldilà il suo sguardo è intenso e la sua presenza inquietante un avvertimento che il desiderio di evocare l'ignoto può avere conseguenze spaventose la leggenda di blu di mary ci mostra come il super come la superstizione la paura possano radicarsi nelle nostre psiche collettive anche se date e dettagli possono variare l'essenza persiste la paura dell'ignoto la fascinazione per i soprannaturali l'idea che i nostri riflessi possano nascondere segreti che preferiremmo non scoprire la prossima volta che ti troverai di fronte a uno specchio scuro pensa all'agenda i blu di mary oserei pronunciare il suo nome per tre volte sfidando il confine tra realtà e finzione pieno di errori comunque la traduzione è pessima ricorda che nella regno del mistero a volte i riflessi possono nascondere più di quanto possiamo immaginare che forse deve lasciare alcune storie nell'oscurità dove appartengono ok la casa di Emptyville nel novembre del 75 la famiglia Lutz desiderosi di trovare il diffuso nella loro nuova dimora farò le soglie della casa di Emptyville ignari di ciò che l'attendeva mentre si insediavano in questa casa apparentemente affascinante iniziano a scoprire la vera natura del luogo in modo inquietante la storia della casa di Emptyville si sa al 74 quando Ronald DeFeo Junior uccise la sua famiglia mentre dormivano in questa stessa casa i nuovi residenti la famiglia Lutz iniziarono a sperimentare fenomeni spiegabili inquietanti il muro della casa sembravano trattenere ricordi del passato emanando una malevolenza tangibile che sembrava affamata di divorare il loro anime la casa di Emptyville divenne un terreno fertile per l'orrore nell'ancetta dell'orologio sembravano girare a un ritmo anormale e la sensazione di essere osservati divenne una costante oppressiva nel buio della notte spiriti nascosti tessono una rete sinistra attorno alla famiglia Lutz visioni spaventose salivano i loro sensi voci spettrali sembravano sussurrare segreti insondabili alle loro orecchie una presenza schiacciante li avvolgeva con oppressione implacabile la famiglia Lutz fu trascinata in una lotta disperata per mantenere la sanità mentale in mezzo all'incompressibile mentre strani incidenti si moltiplicavano contro di loro la casa di Emptyville è diventata un promemoria che l'orrore può anniviarsi nei luoghi più inaspettati la leggenda di questa casa si immerge in un mondo di incubi e fenomeni spiegabili un'esperienza che sfida la comprensione umana e ci invita a mettere in discussione ciò che crediamo di sapere sulla realtà la storia della casa di Emptyville è un promemoria che a volte la realtà può superare la finzione in termini di orrore e mistero mentre esploriamo le sfumature di questa leggenda ci troviamo in un viaggio nell'ignoto dove ombre e segreti si intrecciano in una trama inquietante che continua a catturare la nostra immaginazione ok la casa di Winchester l'uomo del sacco la leggenda di Lorona non la so questa la regina del voodoo la dama in bianco la colonia scomparsa adesso mi fermo qua poi mi fate sapere se siete interessati a sentire anche il resto dei racconti oppure lo lascerò andare nella giornata di Halloween era una mia curiosità per vedere cos'era una storia è stato un piacere alla prossima ciao 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 ciao